Benvenuti a tutti a questa sesta edizione del Technology Forum Campania per il 2022, il consueto appuntamento con l'ecosistema di innovazione tecnologica della regione Campania che poggia su una qualità di ricerca innegabile, la vivacità delle idee imprenditoriali, la competenza, l'attenzione e la lungimiranza di un'amministrazione pubblica di questo territorio. Abbiamo un ecosistema fatto di sette università straordinarie, di centri di ricerca, di start-up, di piccole e medie imprese, del sistema confindustriale. Siamo tutti connessi, vogliamo che la Campania sia sempre più competitiva. La missione del Technology Forum è stata fin dalla nascita quella di favorire la crescita e l'accelerazione di un ecosistema dell'innovazione della ricerca a Campano e di avere a Napoli un momento di riflessione, ricerche, accelerazione di opportunità, di investimenti e di iniziativa. Parlare di innovazione, parlare di sviluppo sostenibile, parlare di transizione tecnologica significa parlare delle grandi opportunità e dei grandi fattori di crescita che ha la città di Napoli e la sua area metropolitana. Questa è una regione che ha più riprese, in più circostanze, ha dimostrato di avere una grandissima sensibilità rispetto all'innovazione. Grazie.